Gli ultimi due interventi, tutti gli interventi, ma particolarmente quello del mio vecchio amico Ciro, perché è partito da... Oh, grazie, capito? Grazie per il vecchio. E' vecchia l'amicizia, non tu. Allora, dicevo, perché ha citato le cose come avvengono. Ciro ha parlato di quello che sta accadendo a Coltano, tra l'altro è di oggi, cioè di ieri, la notizia che il governo, il ministro PD Guerini, ha fatto un nuovo DPCM con cui conferma la realizzazione della base a Coltano nel parco di San Rossore, però comincia a usare termini come ecostruttura, rigenerazione, che io quando sento questa parola sappiamo che si è usata come rigenerazione urbana per giustificare le peggiori operazioni immobiliari e via discorrendo. Tutta una serie di termini di greenwashing per dire la base si fa lì, spenderemo 190 milioni di euro, però sarà compatibile con l'ambiente. Ora, questa vicenda mi porta a fare due considerazioni. La prima riguarda il tema dell'appello e della discussione di oggi, e cioè il rosso verde non può essere ordamento. In questo momento, non so se oggi o domani, non ricordo più, l'ho letto sul manifesto, ci sarà a Roma o è in corso, ci sarà domani un convegno di rosso verdi. Questi rosso verdi, per la maggior parte, estranei a qualsiasi lotta concreta, per la maggior parte persone che si occupano di elezioni, e sostanzialmente anche quella è un'operazione di greenwashing, a mio parere va denunciata per quello che è senza alcun settarismo, ma richiamando la riflessione sui fatti concreti. La base di Coltano, il grande inceneritore a Roma, nell'elenco potrebbe l'immobiliarismo di Sala a Milano, tra l'altro con la pagina di ieri della bocciatura, anzi della trasformazione, la mutazione genetica di una mozione di solidarietà a Assange, che è diventata una mozione a favore dell'estradizione di Assange, non so se avete ricevuto la notizia. Era un raro caso in cui c'era un'azione positiva dei Verdi, che governano col PD, ma il PD li ha riportati anche su questi temi, alla realtà della propria natura. Perché cito questo? Ovviamente non per polemica, anche se io penso che va fatta una durissima battaglia politica rispetto a questo fenomeno di trasformismo che attraversa i movimenti, è un problema non solo italiano, in Italia particolarmente ridicolo, a una versione più drammatica in Germania, dove i Verdi, come ha denunciato la Fontaine in questi giorni ripetutamente in varie interviste, sono diventati il partito più aggressivo, guerra fondaio e filo nato. Chi parla nei primi anni Ottanta, ragazzino, perché corrispondeva con i Verdi tedeschi, cioè avevo, anzi avevo il mito, dei Verdi tedeschi che erano una formazione alternativa, insomma, che raccoglieva l'eredità dell'opposizione extraparlamentare tedesca di Rudi Dutsch, eccetera. Insomma, siamo di fronte a questa mostrificazione. In Italia questa deriva ha molto più a che fare con il sottogoverno e il reperimento di un posto al sole, che non è un riferimento ai pannelli per il voto fotovoltaico, ma alla riproduzione di un centro politico nei comuni, nelle regioni e nel prossimo Parlamento. Rispetto a questo io credo che avrò fatto una battaglia politica e culturale, ma non per motivi elettoralistici, voglio essere chiari, perché io credo che sia in corso un meccanismo di cattura, di recupero e sostanzialmente di svuotamento della nuova ondata di consapevolezza ecologica che grazie a Greta Thunberg, grazie e poi purtroppo non dobbiamo dire grazie ai rapporti degli scienziati a livello mondiale dell'IPCC, insomma hanno fatto sì che milioni di giovani, di ragazzi e ragazze in tutta Europa e in tutto il mondo acquisissero in brevissimo tempo una consapevolezza rispetto a quel problema dell'emergenza climatica che a mio parere Simonazzi ha ben raccontato, perché qui non è che stiamo parlando di qualcosa che riguarda i prossimi secoli, parliamo di qualcosa che sta accadendo oggi con effetti dirompenti se si pensa all'impatto e tutto questo sul sud globale del pianeta, laddove ci sono, dove si pagano le conseguenze sia dello sfruttamento economico delle guerre ma anche del mutamento climatico in maniera molto più forte che per noi che siamo nell'emisfero nord del pianeta e in cui per esempio l'inalzamento della temperatura ha ovviamente un effetto meno dirompente che in paesi insomma in cui per esempio i processi di desertificazione vanno avanti con effetti distruttivi enormi e quasi alcun contrasto. Dico che è fondamentale è una battaglia politico-culturale netta e forte perché rischiamo che la generazione dei Fridays for Future veda finire in una grande fregatura questa nuova sensibilità con una fregatura che avrebbe un impatto forse più grave ancora di quella raccontata da Ciro rispetto al Movimento 5 Stelle. L'aspetto però positivo e ruolo che credo possiamo svolgere è quello che ha visto quasi casualmente, diciamo non casualmente perché appunto abbiamo una lunga storia alle spalle di attivismo, militanza e anche riflessione su questi temi intorno a Pisa. Che è successo? A Pisa lo scandalo, insomma questo progetto tenuto nascosto da un anno dalla regione, dal comune, è diventato di dominio pubblico grazie a un nostro consigliere comunale Ciccio Auletta, compagno che viene dal Movimento e che è stato eletto con una coalizione in cui fanno parte di fondazione, è una lista di Movimento, una città in comune. Ciccio ha resa nuova questa cosa, il tema ha assunto rilevanza nazionale, ne hanno parlato molti giornali, è nato un movimento di protesta locale ma che è nazionale, il 2 giugno ci sarà una manifestazione nazionale. Durante il presidio che stavamo facendo e a cui partecipavano anche Roberto Morea e Roberto Musacchio davanti al Ministero della Divina e sta parlando con Ciccio ai compagni del Movimento non base di Pisa, è venuto fuori che le associazioni ambientaliste storiche contattate dal comitato non base per fare ricorso contro questo progetto che è militare e di devastazione ambientale allo stesso tempo ma anche direi antisociale visto che si usano 190 milioni dal fondo della coesione sociale non per aprire ospedali o fare medicina territoriale ma appunto per una struttura militare quindi un intervento negativo sotto ogni punto di vista. Ebbene, WWF, Lega Ambiente, credo anche Italia Nostra, avevano detto picche no al movimento no base per un ricorso. Io ovviamente mi sono ricordato del vecchio amico Ciro Pesagane del forum ambientalista che già come movimenti in Abruzzo abbiamo utilizzato recentemente per varie vertenze e fare ricorsi e li ho messi in contatto e adesso diciamo uno strumento nato trenta tanti anni fa oramai rosso verde per dare forze alle vertenze e entra e diventa fondamentale per fare la battaglia, la lotta di Cortano, citando Lidia evitiamo la parola battaglia. Lo dico perché questo ha a che fare con quanto diceva Patrizia e cioè noi abbiamo bisogno di ripartire dal fare. I comitati, le lotte che ci sono anche se non vanno ingigantite purtroppo perché nel nostro paese siamo in un momento non certo positivo comunque ricostruire una rete di cooperazione e riflessione comune fondamentale non partiamo dal zero perché la convergenza dei movimenti per quel poco che c'è in campo è in corso. Io voglio segnalare un fatto positivo che l'opposto dell'operazione di greenwashing che fanno Ellis Line o Chakery o tanti altri e fra due anni che si vedono per fare questo rosso verde che non so come possa dipingere inceneritori F35 è basinato ma comunque ed è il segnale che è venuto dalla convergenza tra i Fridays for Future e il collettivo di fabbrica GKN nella bella assemblea che abbiamo nelle manifestazioni anche nella bella assemblea che abbiamo fatto il 15 a Campi Bisenzio. Ora è una direzione su cui lavorando mettere lavorare mettendo a disposizione competenze antiche e nuove e cercando di costruire un un punto di vista eh per l'alternativa che che parti dal fare ma anche dal pensare dal punto di vista teorico e politico eh come costruire un'alternativa e non rassegnarsi invece a un a un appuntamento della questione ecologica per fini che non hanno nulla a che fare con gli imperativi del momento. Da questo punto di vista sono convinto che eh la retrospettiva storica che ha fatto Roberto sia fondamentale perché eh ovviamente ci sono nuove generazioni che ripartono da zero oppure forme di attivismo che nascono localmente eh a partire da una singola emergenza eh ovviamente far salire eh il livello della della visione senza nessun avanguardismo ma come socializzazione dei saperi è fondamentale per non dover ricominciare da zero e anche per non dover prendere eh fregature. A me sembra che ci sia un una rinascita di una tradizione che è un lungo filo rosso verde. Oggi si parla molto di esco socialismo è diventato una tendenza mondiale. Prima mi ho mandato il link a un testo che avevo tradotto due anni fa di un franco brasiliano Lowi che poi è stato anche pubblicato un libro suo in Italia sull'ecosocialismo c'è Jeremy Bellamy Foster c'è un sacco di gente in giro per il mondo in connessione con eh il movimento per la giustizia climatica che sostanzialmente rilancia elementi che erano ben presenti da noi dai tempi dello dell'arrivo in Italia di Barry Commoner che ricordo eh fu tradotto immediatamente in Italia da Virginio Bettini che collaborava con lui quindi noi abbiamo avuto un eco marxismo con figure come Bettini, Giorgio Nebbia, Laura Conti e tanti altri che a mio parere ha avuto una sua originalità e e e ha anticipato poi un approccio che ci torna dai paesi anglosassoni oggi anche dal sud del mondo e e questo quindi fonda una tradizione che tra l'altro ha visto eh i filoni migliori della sinistra italiana eh negli anni settanta ottanta essere attraversati eh e che credo eh vada risocializzata in maniera creativa perché ci consente di una risposta eh positiva a a ai problemi che vengono posti io tra l'altro penso che quel filone il nostro filone fosse più forte di quello dei verdi tedeschi il loro era più forte un antiindustrialismo e una critica del dominio della tecnica sulla società e la critica della società di consumi che aveva però radici anche in filoni della filosofia tedesca europea di anticapitalismo reazionario che 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 allora insomma non furono ben intesi comunque in Italia almeno eh l'ecologia è arrivata dall'inizio con eh unita alla critica dell'economia politica del capitalismo questo è un fatto fondamentale eh su cui c'è da lavorare perché riguarda la consapevolezza anche dei movimenti a livello internazionale basta pensare a quel libro capitalocena in cui Gesù Murff ha presente che eh non posso quando parliamo di antropocena in realtà parliamo eh del capitalismo e dell'accelerazione di un modo di produzione che eh accumula capitale senza fine eh che non è mai soddisfatto nella accumulazione ora da questo punto di vista eh io credo che su questo voglio essere chiaro che abbiamo bisogno di lavorare su alcune tracce una è quella che è considerata un elemento fondamentale per cui si chiama si parla di ecosocialismo noi siamo di fronte al fallimento della strategia della lotta contro il cambiamento climatico fondata sul sulla delega al mercato e alla finanza eh lo si è visto a Glasgow ma lo si vede da anni gli unici risultati ambientali seri sono stati ottenuti quando le lotte ambientali e le azioni nei a livello istituzionale hanno prodotto meccanismi di regolazione sociale eh del meccanismi eh economici non nelle prediche eh né gli incentivi fino a se stessi hanno cambiato le cose tant'è vero si fa faccio notare che da quando parliamo di plastica in realtà la eh la produzione di plastica a livello planetario è aumentata eh al posto di diminuire perché appunto comunque c'è chi eh trova più profitto nel produrre plastica che nel nel riciclaggio e riutilizzarla ora la centralità del tema di una pianificazione ecologica democratica di quello che le compagnie e compagni americani ma chiamano Green New Deal radicale eh e quindi di un intervento pubblico che evoca anche però un controllo sociale dell'economia ovviamente in forma eh democratica sono tutte questioni essenziali proprio per eh la questione posta da Simonazzi cioè dei tempi noi abbiamo bisogno di eh azioni eh di interventi su vasta scala da questo punto di vista eh nelle culture di movimenti negli ultimi eh trent'anni si è affermato un un una giusta sottolineatura del del locale del cambiamento degli stili di vita tutte cose per me fondamentali non manco la patente per questo non l'ho mai presa proprio per dare il mio piccolo contributo però eh bisogna avere la chiarezza eh di porre il tema che il rosso verde significa anche azione politica di trasformazione eh complessiva perché altrimenti il verde diventa bosco verticale mentre si cementificano i suoli il modello è Milano con quattro consiglieri comunali verdi eh poi non so quanti di sinistra italiana il risultato che abbiamo l'unica città italiana in cui non bisogna fare manco una variante al PRG per cementificare eh un'area prima inedificabile secondo la pianificazione insomma sono cose che Patrizia ha detto benissimo abbiamo bisogno di un punto di vista forte eh e autonomo radicale che non sia settario e penso che anche i tentativi politici a cui stiamo lavorando eh di costruire una coalizione popolare un nuovo spazio politico almeno noi di fondazione in questo siamo impegnati eh in questo momento anche con altre soggettività non possano prescindere eh da una forte proposta che sia rosso verde come eh caratterizzazione di fondo eh non riducendo ovviamente tutto questo al al discorso elettorale perché noi abbiamo bisogno di lotte di produzione di saperi eh di diffusione e socializzazione di saperi ma abbiamo bisogno anche di costruzione di un'alternativa politica io credo che eh il programma presentato in Francia dalla coalizione di Mélechon con tante contraddizioni ovviamente ci sono all'interno basti pensare che comunisti francesi sono sostituitori del nucleare non il resto della coalizione eh fortunatamente ci pone una questione una possibilità concreta davanti in Europa dove i verdi tedeschi eh fanno la fine che hanno fatto abbiamo eh l'esperienza francese che va una in una direzione che credo per noi auspicabile chiudo sulla guerra non dobbiamo mai dimenticare anche per questo il rosso verde non può essere eh ornamento che dentro anche la crisi ecologica e anche dentro l'antropocene o capitale oceano c'è l'imperialismo e lo stiamo vedendo all'opera gli imperialismi anche da questo punto di vista quindi quello che dice l'appello che non possiamo disgiungere un approccio ecologico a una critica del capitalismo contemporaneo inteso come totalità e non solo rapporto di lavoro eh dentro la fabbrica io credo che sia eh la traccia di lavoro imprescindibile su cui ricostruire la politica e l'azione sociale quindi spero di proseguire con il mio amico Ciro Pesacane e compagno Ciro Pesacane la collaborazione perché ci sono un sacco di terreni di lotta su cui dobbiamo concretamente agire eh già nei prossimi giorni e nei prossimi eh mesi quindi buon proseguimento di riunione io continuo a seguire ovviamente e attento di ascoltare Franco con cui abbiamo cominciato questo dibattito oltre che con Roberto insomma da un po' di tempo. Grazie, grazie Maurizio e Grazie, grazie Maurizio e